3 settembre 2022, 40 anni dopo la strage dalla Chiesa a Palermo, l'intreccio di poteri d'interessi che decretarono la morte sentenziato dai giudici. In un agguato è stato assassinato il prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dallachiesa. Hanno perso la vita anche la giovane moglie del generale e un agente di scorta. A Palermo la sera del 3 settembre 1982, al carcere Ulciardone si è brindato e in nevia Isidoro Carini, una mano anonima scritta su un cartello. Qui è morta la speranza dei palermitani onesti. E la stessa sera alcuni sono stati nella residenza del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dallachiesa per cercare lenzuoli, per coprire i cadaveri e avrebbero approfittato per svuotare la cassaforte, dove Dallachiesa avrebbe custodito documenti scottanti, anche il dossier sul caso Aldo Morro. Infatti poi i magistrati nella cassaforte non hanno scoperto più nulla. È un mistero simile alla sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, subito dopo la strage in Via D'Amelio. È che solleva lo spettro che a sentenziare la morte di Carlo Alberto Dallachiesa sia stato un intreccio di poteri. Dopo 40 anni i processi hanno scritto una verità parziale. Sono stati condannati i vertici e i sicari della cupola, Ergastolo a Totorriina, Bernardo Provenzano e Pippo Calò. E poi ai killer Raffaele Ganci, Giuseppe Lucchese, Vincenzo Galatolo e Nino Madonia. E poi, 14 anni di carcere ciascuno, ha i pentiti Francesco Paolo Anselmo e Calogero Ganci. E nella motivazione della sentenza i giudici hanno scritto «Si può senz'altro convenire con chi sostiene che persistano ampie zone d'ombra sulle modalità con cui Dallachiesa è stato mandato in Sicilia e su interessi, anche nelle istituzioni, all'eliminazione del pericolo rappresentato dalla determinazione e dalla capacità del generale». Dallachiesa, nella sua ultima intervista, affermò «Un uomo è colpito quando è lasciato solo». E si trattò del suo epitafio sulla tomba, dopo i 100 giorni a Palermo. La sua sfida alla mafia, iniziata il 30 aprile precedente, il giorno della morte di Piola Torre, è concluso il 3 settembre in via Carini, sotto i colpi dei Kalashnikov, insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro, e all'agente, Domenico Russo. Ai funerali, il cardinale Salvatore Pappalardo, contro l'indifferenza di Roma, verso Palermo, stritolato dalla mafia e la solitudine mortale di Dallachiesa, denunciò. Mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata. Pronti per colpire, sovviene che si può applicare una nota frase della letteratura latina, di Sallustio mi pare, nel De Bello Iugurtino, «Dum Rome consulitur, Saguntum espugnatur». Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. «Dum Rome consulitur, Saguntum espugnata dai nemici.